Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a fare un po' di reaction su YouTube Così, perché c'ho voglia Easy E partiamo con questo Villa Banks vs Chad Freestyle Vediamo cosa viene fuori Che base hai? Fai sentire? Facci sentire la base Non voglio sentire la base, non voglio sentire i discorsi di questi qua Sei DJ? Ehi, ehi, ehi Ok, ti piace? Se, se Se, se Se, se Yeah Shade sopra il beat Gioco nella nazionale New Dream Team Vengo qui e mi faccio la tua bitch E quando ora è passata e poi si impalla Twitch Su su culo TomTom Lui vuole me perché ho la droga Lui vuole le prove Oggi dico Le vuole me perché ho la droga Questo promette bene, questo promette bene E' una scintilla Rispetto per Villa che brilla La sua storia è più carina E' così bravo che domani faccio banchina Maglia 69 Maglia 69 Le vuole solo me Con quattro tipe A riepirli Le mazzate Va bene Aspetta 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 Ma si sta divertendo un botto. Guarda che sorriso. Guardalo. Oh. Perché? Guarda. Vila Banks, con l'attacco della base, ha fatto una roba assurda. Sentite. Sentite. Amare, donare, volare, spingere, sognare, fantasticare, mangiare, donare, sognare, 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 dormiamo nel lontano 2010. Voglio sentire che parlate di amore però, e di coprifuoco, e di coprifuoco. Amore, voglio l'amore. Noi diamo una parola? Coprifuoco. Ok. Ma... Ma Villa Banks, ripete, troia vuole me, lei vuole solo me, tutti vogliono Villa Banks, ma perché? Adoro, lo è fattissimo, lo adoro. Pradoveri, sei così scemo che c'è il coprifuoco e tu chiami i bombieri, cosa rivasciate e noi siamo sinceri. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Questa è uscita bene, questa è uscita proprio bene, aspetta. Come petardi, quest'anno c'è il coprifuoco, ma la tua troia torna sempre tardi. Se continuate a donare, li facciamo continuare a fare freestyle per almeno 10 ore. Allora, lanciate nei commenti la parola che dobbiamo usare per il freestyle. Esatto, esatto. Vogliamo la parola. Interagite con noi. Interagite. Svigere. Guardatelo, lui è quello che si diverte di più. Anche il DJ non scherzo, però da notare come reagisce. Un bacio a Camilla e mi gode la reception, io sono innamorato appena sono arrivato. Bravo, bravo. Confermo. E' quel amore, è quel amore. Che ho visto innamorato, gli occhi a cuoricino. Tutte e due. Perché l'amore è universale. Soprattutto con le mascherine. Voglio vedere Villa che limona quella della reception. E le te bise che gli fanno la reaction. Voglio vederlo, me lo metto sul proiettore tipo la Playstation. La parola. Possiamo fare l'amore anche in freestyle. Mi fermo, tu vai. Se vuoi ti do pure il mio mic. Camilla, dimmi se vuoi una botta. Ho la stanza, 218. Bassa. Minisocio. Ho l'erba. Minisocio. Facciamo l'anca. Oddio, guardate. Oh, Gesù. Oh, Gesù. Sentite. Oh, porco. De monio. no ci vede la trasmissione mi fa troppo ridere villa bex sei il mio nuovo artista preferito abbiamo qualche la parola è bastardi donate possiamo togliere la parolaccia donate ma basta come faccio a entrare con donate questo è il cazzo di re di questa merda questo è il mio padre il padre di tutti chiunque faccia freestyle in italiano è suo figlio chiunque almeno ci provi è suo figlio amore pesciade non ce n'ha amore pesciade va bene donate donate con il freestyle fa da nave mi fermo frate come se fossi un ancora se dico donate non fate cazzate se non lo fate vi do pure il più del mio banco mat già lo sai tira su la mano se ti piace il freestyle se non doni sei nei guai ok ho detto donate sono salito in camera ho fumato un donut accettalo faccio un'altra e quest'anno aspettala questo è stato un milione l'anno prossimo un altro e sai che c'ha farò un altro milione per donarlo tutto al cancro ricerche medicina e squadra questo è bello bravo 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 mi associo mi associo a quello che ha detto mi associo mi associo facciamo questa roba voi donate state sinceri bravo te i seri donate ed amate un po' come pier con la salemi pollate gli sghei quest'anno faccio trofei oggi ho fatto zero gol domani ne faccio 96 ehi non sono nessuno tu hai fatto zero gol io ne ho fatti meno uno qua si parla d'amore lasciate nella situazione non so manco come e ho fatto un altro gol e poi un altro gol e poi un altro gol e poi vado indietro come mai il gol ehi vado di fretta lasciate con il frista qua la gente mi aspetta e poi il frista per questa diretta salite sui colli non mi dite che è lui ma chi è sta troppo simpatico chi è chi è hai fatto una corretta cash punz 96 valerio mansei 10 grazie grazie ok ok donate gli sghei facciamo questa roba giù dove sei quanto siamo arrivati sta funzionando questa cosa perché se funziona 60 milioni di euro continuiamo per 10 ore se no la casa di carta ci bomba vogliamo sapere il numero esatto finito stai pensando di far dropshipping o molto probabilmente è già iniziato beh ti dico fin da subito che non è profittevole ma penso che lo saprai anche tu e non è un caso che tutti ti stanno dicendo che lo sappia che lo sappia anche tu che lo sappia anche tu che lo sappia anche tu vabbè il video finisce qua un bacione